Stasera ho una voglia di una buona pasta, vediamo cosa esce fuori. Oggi pasta all'uovo, 350 grammi di farina di semola e 150 di farina 00, 4 uova e un goccio d'olio. Pizzichetto di sale e giriamo. Pizzichetto. Non sto utilizzando il matterello come la nonna insegna perché dovevo fare questa pasta in 25 minuti, portatela con la sfogliatrice alla penultima tacca e dopo andate a fare i vostri mattagliati. Adesso andremo a fare una pasta con i mattagliati alla norcina. Iniziamo facendo rotolare la salsiccia. Quando la salsiccia è semicotta andremo ad aggiungere dei funghi, questi sono delle cardarelle come si chiamano da noi, le ha raccolte il mio papà in montagna. Le vado a mettere dentro, facciamo cuocere. Come ogni norcina vuole andiamo a mettere tuorli d'uovo, un po' di panna da cucina, del pepe e del pecorino romano. Come si dice, dalla padella alla brace. Se avete del tartufo fresco è sicuramente meglio, io adesso non ne avrò a disposizione e sto mettendo un po' di salsa tartufata. Quando la pasta ha rilasciato abbastanza amido andate a mettere a fuoco basso la leson di tuorlo d'uovo, panna e pecorino. Sarà una ricetta di Noël Cuisine, ma è una ricetta davvero davvero gustosa. Buona cena a tutti!